E Action Cursor. Può cambiare il gusto della tua vita. La Yakuza vuole la sua testa. Mi hanno incaricato di recuperare la testa del Corriere Mnemonic. I Notec vogliono i dati contenuti nel suo cervello. Trasporti la cura per l'NAS. Johnny Mnemonic vuole la sua vita. Sono brutto. Johnny Mnemonic, lunedì 20.45, Italia 1. Nescafè Cappuccino. Morbido, da leccarsi i baffi. E c'è anche Nescafè Cioccafè, il cappuccino al cacao. Quando aspettavo Matteo sentivo la mia pelle più sensibile e sudavo di più. Volevo un deodorante che funzionasse a lungo, ma soprattutto delicato. Un deodorante aggressivo può irritare. Infasil è il primo deodorante da anni clinicamente testato. Su soggetti diversi, su diversi tipi di pelle. E si è dimostrato non aggressivo. Oggi lo usiamo tutti e due. Perché Matteo ci fa sudare sette camicie. Infasil deodorante. Così efficace. Così sicuro. Con la sua esplosione di freschezza, Air Action VigorSol può cambiare il gusto della tua vita. Scoprite la convenienza garantita da Troni. Un telefono cellulare Nokia ha sole 289.000 lire. Troni, non ci sono paragoni. Quando penso a tutte le cose che posso pulire e igienizzare sulle nuove salvette di Mastro Lindo igienizzante, mi sento già stanco. Salvette di Mastro Lindo igienizzante. Faticano loro per te. L'88% di voi ha deciso. Ama Studio Line Invisi Spray FX da L'Oreal. Nuovo spray fissante a formula invisibile. Fissa. Ma non si vede. Tiene a lungo. Ma non lascia residui. Invisi Spray FX da Studio Line de L'Oreal. L'Oreal, perché io valgo. La buona digestione mantiene giovani il tuo organismo e ti regala più tempo per vivere le tue emozioni. Uliveto, per i suoi preziosi minerali, la microeffervescenza, aiuta la tua naturale digestione e attiva la tua vita. Uliveto, buona digestione. Più tempo alla vita. Avete un processore Pentium 3? Abbiamo creato per voi il servizio Intel Web Outfitter. Un sito web in esclusiva per farvi vivere internet alla grande. Potrete godervi i migliori siti musicali. Ritoccare le vostre fotografie. Scoprire astuzia e strumenti per ricavare di più da internet. Il servizio Intel Web Outfitter. Iscrivetevi al volo. È gratis sul sito intel.it. Ehi là, sveglia! Questo è un super giorno! Ma chi sei? Cereal X, il vostro magico amico. Sono sui piedi. Facciamo colazione! Anzi, una festa! So io quello che ci vuole. Le mie stelline di cereali al cioccolato. Da tuffare nel latte. Golose? È la magia di Cereal X. Fantastici! Opla, a domani! Da mulino bianco. Un nuovo Cereal X. Una festa a colazione. All the hits now! Arabe de Palo. Lenny Kratz. Manu Chao. Lit Fiber. Jerry Halliwell. All the hits now! La compilation dove c'è tutto. Due CV al prezzo di uno. Per candidarti all'apertura di una Giramondo Viaggi nella tua città, contatta l'ufficio selezione franchising allo 045-867-0043. Quando arriva un bacio, lo senti. Uno cinque cinque? Salve Loredana! Grazie, eh! Mi è arrivato il cd libero di Infostrada per entrare gratis in internet. Che devo fare? È autoinstallante. Fantastico! Chiama l'uno cinque cinque e fatti mandare a casa il cd-rom. È gratis. Infostrada. Chiedici di più. Chobar. Il gusto che scalda l'inverno. Ma chi hai fatto? Provo a mandare via i brufoli. Come? Facendogli paura? Ho provato di tutto. Risultati zero. Allora, fammi un favore. Usa Top Xan tutti i giorni. Funziona veramente. Pulisci a fondo e combatte in purità. Che caso hanno i brufoli? E non devo più andare in giro come uno zombie. Esatto. Così magari potrò presentarti ai miei amici. Top Xan ogni giorno toglie i brufoli di torno. Torna Kurt Russell nel ruolo che l'ha reso famoso. Il personaggio che è diventato un mito. L'intera nazione ti sta guardando. Cos'hai da dire, plisci? Che amami piena. In prima visione su Italia 1, fuga da Los Angeles. Venerdì alle 20 e 45. Dovevamo atterrare due ore fa. Lo so signore, ma è solo una questione. Lo so signore, ma è solo una questione.